Il gol di Moscardelli in poche ore ha fatto il Giro d'Italia, oltre un milione di visualizzazioni grazie alle varie condivisioni nelle pagine specializzate dedicate al calcio su Facebook fin dalla tarda serata di sabato. Un continuo passare di bacheca in bacheca per ammirare una delle più belle prodezze che si siano mai viste ad Arezzo. Prodezza che non è passata inosservata neanche per la rubrica di striscia la notizia, striscia lo striscione di Cristiano Militello che ha scelto il gol di Moscardelli per la carrellata dei gol da ricordare del weekend. Il bomber Moscardelli! Controllo e poi parte. Tunnel evita Marchi, poi vantica di Chittudo! Questo sicuramente è uno dei primi. Sicuramente è una bella conclusione anche l'azione saltando avversario con il tunnel. Diciamo che mi è mancato un po' di tempo il tiro da fuori perché è una cosa che in teoria ci dovrebbe avere, quindi magari farne qualcuno in più. La squadra ha giocato bene, abbiamo concesso non tantissimo, quindi è una vittoria importante. Veniamo da un momento difficile, sia di risultati, quindi di classifica, anche la situazione del presidente di questa ultima settimana, gli ultimi dieci giorni, quindi sicuramente una vittoria importante di classifica che poi anche per i tifosi, dedicata sicuramente ai tifosi che ci sono sempre stati vicino anche in queste ultime partite e poi senza scordare il presidente perché ha passato questa settimana non bellissima, quindi sicuramente anche a lui.